Ciao a tutti ragazzi, io sono Mattia e oggi siamo qua con Rick08. Ciao a tutti, oggi siamo venuti qua alla fiera di Montichiari. Siamo qua con questa gita, anche perché ce l'avevamo accordati per accordarci, visto che comunque sia io seguo i suoi video, lui segue i miei, allora visto che comunque sia non eravamo tanto distanti, abbiamo deciso di organizzare questa giornata per trovarci al mercato di Montichiari, la fiera degli avicoli. Abbiamo fatto spese, direi. Molte spese. Abbiamo fatto spese, siamo veramente soddisfatti, pronti per tornare a casa col mallocco. Ora vi mostreremo anche la fiera. Rimanete aggiornati per scoprire cosa abbiamo preso. Ok ragazzi, siamo subito con dei pulcini, guardate che belli che sono. Adoro. Altri pulcini ce ne sono veramente avvagonate. Guardate, faraone, un galletto, pulgarare mi sembrano, americanelle, altri pulcini, pavoni, pavoni. Qua ci sono dei tacchinelli mi sembrano, quelle leggere, non pesanti, oche. Oche di tolose, non lo so, non sono un grande esperto di razzi di oche. Anche nulla, polli, eccoci lì, ragazzi, eccoci lì. Qui altre galline o vaiole. Che bello questa, questo fiera, questo mercato. In tempo ragazzi ho già fatto il mio acquisto, dopo lo vedrete, pulcini, 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 gallino vaiole, galli di uvornese mi sembrano. Io ho già fatto i miei acquisti, e che acquisto, ragazzi, luccioni. Fagiani argentati, fagiano mongoglia, fagiano dorato, varie tipi di fagiani, questo qui è la femmine della fagiana argentato. eccolo qua con maschio faggiano dorato faggiano mongolia faggiano argentato eccoli qua ancora infatti anche quello dorato mi dicono che è il dressivo però non lo so che bello il faggiano mongolia il mio preferito è il dorato altri animali pavoni polzoni d'india che bello che sono i polzoni d'india giardino austria l'artenzo non lo so ok qui stiamo scegliendo un po cosa cosa fare che sto pensando alle faggiano stavano vediamo un po se li avremmo comprati o meno lo scoprirete nei video ne approfittiamo anche per rubare qualche scatto qualche immagine quanto vengono te lo chiedo e qui hanno creando tre mute hanno pioccoli germani reali squaglie faraone altri piccioni galline l'itamino è già pronto ormai è già quasi mezzogiorno mezzogiorno si stacca ragazzi altre papere ci sono tante papere nei fatti tacchinelli pesanti bianchi altre mute o muller stanno facendo le prime delle ali mi sembra e ci sono dei germani vero che figati intanto per farli bene che bello ragazzi quel germano qua non so se sono un germano veramente spettacolare ci ho fatto un pensiero ci sono anche le mucche ragazzi adesso vi faccio vedere i miei acquisti si è bellissima eccoli ragazzi 3 pulcini di gallina a collo nullo penso che siano femmine sono tutti femmine in più anche delle faraone di doppia colorazione non camociate non grigie ma un ibrido sono due ecco lì vedete che belle sono veramente molto molto semplice fatto che mi ha visto dei miei acquisti guardate che bello adesso ho arrivato un po di mangino preparato la gabbietta non è molto grande ma può andare per la prima settimana ho messo la secatura c'era già buttata nel mangino che belli i colli nudo ragazzi li volevo ma non li trovavo ciao ciao le faraone sono un pochino più indisparte perché secondo me sono nate qualche giorno dopo eccola qui e lì colicata veramente molto molto belle molto molto belle eccola lì 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 è un pochino più assediato da pulcini